antivigilia della partita Cagliari-Roma una partita che bisogna vincere a tutti i costi giocando bene, giocando male, non mi interessa una partita che ci vede in notevole difficoltà perché come abbiamo saputo anche ieri Ibarbo, noi puntavamo molto su di lui non sarà della gara per cui a questo punto le scelte sono direi quasi obbligate ora si iniziano a fare molti nomi il nome è gettonato del momento anche viste le ultime scelte di Rudy Garcia sembra essere quello di Daniele Verde ora, io sinceramente non seguo il campionato primavera quindi non so dare i giudizi quello che ho potuto fare e quello che hanno fatto la maggior parte delle persone so andare su YouTube a vedere chi è questo giustamente e devo dire che all'interno del contesto campionato primavera ha dei numeri importanti perché comunque è un attaccante esterno molto mobile direi anche abbastanza tignoso ottimo dribbling secco un bel sinistro anche che voglio dire che tira in porta quindi comunque è un giocatore che vede la porta segno il problema è che il campionato primavera non è come la cantera in Spagna non si misurano con i giocatori di serie A giocatori scafati giocatori cattivi giocatori tignosi giocatori esperti subdoli bastardi capito quindi ho paura come è successo anche nel passato un nome su tutti che mi viene in mente Patrizio Fimiani che magari io non lo so ha fatto una gherela del merda poteva magari anche essere un bel portiere non lo so però è stato bruciato è stato bruciato perché è stato gettato nella mischia non avendo più portieri ha dovuto fare le ultime quattro se non erro partite di quel campionato in cui l'allenatore era Boscov e culminato con la finale di Coppa Italia finita in maniera tragica e lui c'era in porta quindi tutta la gente mentalmente gli ha accollato a lui e infatti Patrizio Fimiani è finito lì mo' è successo anche ad altre persone ma io dico questo allora caro il mio Rudy Garzia che io te voglio bene perché comunque hai ripreso la Roma dalle macerie e l'hai riportata a essere una squadra che gioca in Champions ok ma Rudy tu non mi fai entrare un carciatore giovane manca ammazzate quando stiamo a vince è capitato anche l'anno scorso quando stiamo a vince 3-4-0 a un quarto d'ora dalla fine e mi butti dentro Daniele Verde adesso ma allora tatticamente ti devi inventare qualcosa perché noi giustamente abbiamo criticato Zeman che 4-3-3 e non si muoveva mai quando magari era necessario forse fare qualche accorgimento ok a me mi sta bene quello è il suo dogma è ok però tu che invece sei un allenatore che sa adattarsi no almeno quello che dicono hai fatto anche vari schemi varie soluzioni allora io ti invito a vedere un altro tipo di schema che non sia il 4-3-3 perché è evidente che non hai gli uomini quest'anno per fare 4-3-3 non c'hai i terzini non c'hai le ali non c'hai niente per poterlo fare è stata una stagione sfortunata è evidente ti invito a fare un altro tipo di schema che non preveda Daniele Verde ma non perché ce l'ho con lui perché non è il momento questo non è il momento in più c'hai gente in panchina come io non voglio essere polemico però c'hai gente in panchina come Huchan e Paredes gente che ha giocato in grandi club gente che ha fatto già le partite importanti e Paredes ha giocato nel Boga Junior e ho detto tutto basta non ci stanno altro da dire perché voi ti dicono se non è quello un campionato con delle pressioni con i tifosi che te stanno addosso quali sono le pressioni vada quindi tu ti devi inventare un modulo di gioco che preveda anche uno dei due Huchan o Paredes o anche tutti e due perché basta cioè se non ti fai giocare adesso ma quando cazzo giocano eh allora non voglio essere polemico quindi daje ricompattiamoci ci stanno ancora due giorni studia la formazione giusta e vinciamo a Kaya basta non voglio sentire parlare di altro non mi interessa gioca bene gioca male a Kairi bisogna vinci punto e forse dai